Io sono sicuro che la Russia non ha dato nessun finanziamento alla Lega, mi è stato assicurato direttamente dal Presidente Vladimir Putin, che non aveva nessuna ragione per dirmi una cosa diversa dalla realtà, ne vedo quale interesse francamente potrebbe avere Putin in suo partito, la Federazione Russa, a dare un finanziamento a un partito come la Lega. Se ci sono stati delle trattative tra privati, queste sono cose che possono accadere perché la Russia è un fornitore importante per l'Europa e quindi per l'Italia di gas e di petrolio e quindi se qualcuno vuole immettersi in questo commercio è qualcosa di diverso da un finanziamento a un partito politico che sarebbe assolutamente fuori dalla legge.